buongiornoregione.molise.it segnalando fatti e situazioni di cui occuparci in questo spazio. Prendere una multa perché per andare a vedere uno spettacolo non si è potuto parcheggiare nello spazio riservato ai disabili che era nelle vicinanze del teatro. E questa è la disavventura che è capitata al nostro telespettatore ed è questo il caso di cui ci occupiamo stamattina. Federica De Vizia. Siamo andati a casa di Pietro e Floranz. Ai nostri microfoni ci raccontano una storia. Qualcosa che è successo e non dovrebbe invece succedere. Noi come tutte le volte, tutti i sabato sera, andiamo al teatro perché vorremmo condurre una vita tranquilla, normale come tutti gli altri. Noi siamo handicappati, io i piedi torti dalla nascita e mia moglie non vedente dalla nascita. Quindi quando ci muoviamo per andare in qualche posto, col nostro buonsenso, ci muoviamo 45 minuti prima per poter trovare un posto e per non dare fastidio a nessuno. Ieri sera siamo arrivati, il posto dei disabili di fianco a Lupacchioli era occupato e abbiamo parcheggiato in Piazza Pepe. All'uscita del teatro c'era una multa. Io logicamente accetto che ci sono delle regole. Cerco solo di... ecco, chiedo soltanto un po' di buonsenso perché comunque la nostra macchina non creava disagio a nessuno. Floran, questo non è l'unico episodio, ce ne sono anche altri? Sì, per esempio ci capita spesso di trovare... Noi davanti casa abbiamo il posto macchina riservato e oggi per l'ennesima volta tornando a casa lo abbiamo trovato occupato. e non so, sembra che non si accorgano del cartello, cioè mi sembra insomma un po' strano. Paura di un'altra multa? Dove avete messo allora la vostra macchina? Noi comunque l'abbiamo messa sempre nelle vicinanze del portone e come ha detto prima mio marito comunque mettiamo in continuazione dei foglietti vicino alle macchine che parcheggiano abusivamente nel nostro posto riservato. Non chiamando carattrezzi non vogliamo fare guerra a nessuno, non chiamiamo mai il carattrezzi e se qualche volta è successo abbiamo chiamato i vigili, polizia o carabinieri sono arrivati, purtroppo sono arrivati in ritardo, la macchina era andata via e siamo stati anche rimproverati perché non è che potevamo trattenere con la forza la persona incivile che aveva parcheggiato. Quando il posto si libera davanti casa Pietro e Floranz possono andare ad occupare il posto che aspetta loro si rientra a casa e si cerca di dimenticare quotidiani sopprosi. Vedete mi ha raggiunto in studio Antonio Fatica e dunque il momento dello sport vediamo com'è andata ieri sui campi molisani. Grazie.